Mancano due giorni all'insediamento del Consiglio Comunale a Cala Tabbiano. Le trattative nella maggioranza continuano da giorni per completare gli assetti a supporto di Giuseppe Intelisano, anche se il quadro va verso la sua definizione. Rafforzata la candidatura di Rosaria Messina alla presidenza del Consiglio, candidatura naturale, consolidata dai numeri elettorali e dal confronto in maggioranza, prende corpo anche l'ingresso in giunta di Liborio Corica, pronto a lasciare il seggio in Consiglio Comunale in cambio della vice sindacatura per tutti e cinque anni. Corica lascerebbe così il posto a Carmelo Sterrantino, primo dei non eletti della lista Intelisano, che dovrà essere bravo a questo punto, come lo è stato nel quinquennio precedente, nel creare un sistema di alternanze che dia spazio a tutti i suoi sostenitori. Sul fronte dell'opposizione ormai è ufficiale che Antonio Petralia e Siamo Cala Tabbiano non faranno gruppo unico. C'è voglia di dialogare sì, ma ognuno con la sua autonomia. Salvo trovato a breve potrebbe lanciare la continuazione del comitato alternativa calatabianese, che ha generato nei mesi scorsi la sua candidatura a sindaco.